Che peccato ragazzi miei che peccato Che peccato anche l'Atalanta via dalla Champions Che peccato Beh qua sta Teddy Qui sta Teddy Gran Madrid Atalanta ragazzi miei La partita è finita 3-1 per Real Madrid E Gran Madrid ai quarti di finale L'Atalanta secondo squadra italiana eliminato dalla Champions Dopo la Juve Ragazzi miei mi dispiace tantissimo per l'Atalanta Perché l'Atalanta è una squadra che Oggi Ha perso Contro una squadra Una squadra I Blancos Contro una squadra fortissima ovviamente E Il Gran Madrid viene paragonato Al re delle Champions 12 Champions Una macchina da gol qui Come possiamo dire Gran Madrid ragazzi miei Vince 3-1 con l'Atalanta Tutto nasce da un Benzema Su un errore Su una cappella Su un errore madonnale Di golli no Di golli no Di sportiello Che gara palla a Modric E come dicono tutti La focaccina La da Benzema Benzema Era Era tutta la vita Era punizione Tutta la vita Non era calcio di gol Perché il fallo era fuori Siccome che Gli abiti Il VAR E O come possiamo paragonarlo E il magliale della Champions Ragazzi miei Il raddoppio Della Madrid Con Servio Ramos Passando dei minuti Amadid attacca L'Atalanta Resiste Ma anche l'Atalanta Che si è rivolato Molte occasioni Davanti alla porta Con Zapata Ha avuto due Troccazioni Davanti alla porta Anche la prima Il primo tiro Della Atalanta È stato di Gosens Non lo so Però l'Atalanta Su un assist di Mugel È arrivato uno Con lo scappino Che ci stava Riuscendo a fare i gol Ma pull drop Ragazzi miei Pull drop È così E poi ragazzi miei Al minuto 75 Al minuto 80 Il fantasista Mugel Che ti fa una punizione Bellissima Ti fa Dove ragazzi miei Questo Luizio Mugel È un giocatore pazzesco Lo dobbiamo dire Ragazzi miei Ragazzi miei Luiz Mugel È un giocatore pazzesco Ti fai gol A destra e sinistra A mezzo campo Di rovesciata Ha un tiro È veramente un cecchino Mugel Ragazzi miei È un cecchino E poi Un minuto dopo Massimo Due minuti dopo e mezzo E' altri gol di Asensio Che chiude Che chiude 3 a 1 E possiamo dire Che ci sono finalmente Per i amari Di titoli di coda I amari Tra i quarti di finale Un rigore Inesistente Per i Real Madrid Perché quello là Ragazzi miei Non è la caccia di rigore Perché i falli Era fuori Però Ragazzi miei I Real Madrid Da una patta Meritato Perché dovete sapere Che il Real Madrid Non è la Juventus Il Real Madrid È più folle Della Juventus Perché il Real Madrid Persino che vinceva Di 3 a 1 Stava a voler A fare anche più gol 4-5 a 1 Invece la Juventus Può vincere 3 a 0 Una partita E non gioca più Perché Tanto dice la Juve Vabbè 3 a 0 Stiamo Stiamo vincendo Non ci rimontano E poi E poi la riprendete Invece una squadra Come il Real Madrid Che quando vince Vuole continuare A fare gol Perché Juve A questo ritmo Non lo fai Perché Perché Quando Hai il pallone Tra i piedi Fai 2 gol 3 gole Ti fermi Non attacchi più Perché Un difetto Che hai avuto Sempre 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 Ed è una cosa Sbagliata Ed è una cosa Sbagliata Adesso In marcio Sessite Ha vinto Anche con i bus E moce In grab Adesso Ho visto Nel primo tempo Che era finita 2 a 0 Poi controllo Su OneFootball Mi raccomando Link in descrizione La miglior applicazione Di calcio Dove potete Scaricarvi Tutti i mondi Del calcio E tutto di più Io sono Veramente triste Per l'Atalanta Però Da una parte Non sono contento Per niente Perché Ragazzi Io Tifo Sempre L'italiano Sia in Champions Sia in Europa League Quindi Io sono contento Anche per l'Atalanta Che Anche se è uscita Ha dimostrato Che l'Atalanta È una squadra Che spaventa Latte squadre Quindi L'Atalanta Esce dalla UEFA Champions League E le ottavi Della Champions League È sicuramente A testa alta Rispetto alla Juventus Che c'è a testa bassa Perché Un po' Tu lo puoi fare fuori A posto di far Figuraci di cacca Che hai fatto Quella volta E ragazzi Mie possiamo dire Che Il Gran Mardi Della fine ha meritato Per il gioco Che ha avuto Mi dispiace Per Gasperini Ma voi pensate Vabbè L'Atalanta Ha perso Mora in crisi Ragazzi miei L'Atalanta Ha poche esperienze In Champions Adesso guardate Lo spettacolo Che vi fa insieme a team Guardate Lo spettacolo Che vi sta facendo In campionato E anche in finale Ricordiamo Che l'Atalanta È anche in finale Di Coppa Italia Non ha nulla da perdere Con la Juve Perché l'Atalanta Se non l'ha dergato Non ha mai vinto Una Coppa Italia Se non erro La Juventus Ne ha vinte infinite Però Ragazzi miei La Juventus Non è più la Juventus L'Atalanta È rimasta sempre l'Atalanta L'Atalanta Ragazzi miei Ha un gioco pazzesco È una squadra La mette Molto Molto piena di gol E Quindi Ragazzi miei Due italiane Buttate fuori Sono contento Per il Armadi Che eravanti Sono contento Per il Porto Colore che sono passati Il tunnel Che sono I quadri di finale Sono contento Perché sono squadre Che vogliono Raggiungere un obiettivo E ci stanno riuscendo La Juventus Esce dalla Champions A testa bassa Rispetto all'Atalanta Che c'è A testa alta E sono contento E sono contento E sono No Contento Contento Per le altre squadre Che vanno Ma mi dispiace Un sacco Per l'Atalanta Perché ragazzi miei Oggi non abbiamo visto Anche una buona partita Ma è sempre Una Un grande È sempre Una grande Atalanta Che ha resistito Fino alla fine E ha voluto Trovare il gol Fino alla fine Quindi Atalanta Stai tranquilla C'è stata eliminata Ma è stai tranquilla La prossima partita Della squadra italiana Che dovrà affrontare Barri e Monaco Una partita impossibile Ma lo ripeto Ancora una volta Mai dire mai Barri e Monaco Lazio All'andata Lazio Barri e Monaco 4-1 per il Barri e Monaco Sicuramente Passi Barri E però Se la Lazio Fa un miracolo Sono contento Perché almeno Le italiane Sono le più sfortunate In Champions Però Se questa è una squadra Meno italiana Che va verso la finale Sono molto contento Da questo è tutto Dal finale Fini bianconero È tutto Ci vediamo con un prossimo video SM Forza York Ciao a tutti Atalanta Anche se è stata Anche se è stata Buttata fuori E ci sembra Testa alta Complimenti però